buongiorno amici buongiorno a tutti allora enesima presa per il culo enesime prese per il culo è passato dicono l'emendamento mule un emendamento rivisto a 360 gradi che perde totalmente la sua efficacia ma per l'opinione pubblica questa è una svolta per quanto riguarda il calcio italiano a supercazzola io la chiamerei supercazzola non una svolta per il calcio italiano volete avere le magliette delle vostre squadre preferite con una qualità superba e un prezzo ridotto www calcio zox.com potete acquistare queste splendide magliette come la nuova maglia della juve di quest'anno che indosso in questo momento a prezzi davvero pazzeschi con una qualità incredibile www calcio zox.com codice sconto attrick per un 10 per cento che ti offro io mi raccomando calcio zox.com ebbene perché quello che in origine era l'emendamento ha perso totalmente senso ha perso totalmente efficace ha perso totalmente quella sua forza dirompente che avrebbe potuto davvero creare una breccia in questo sistema pseudo mafioso della figici e della federazione e tutto resta in questo limbo perché poi il paese italia voglio ricordare è il limbo perfetto praticamente l'emendamento passato nella serata di giovedì dopo una giornata di rinvii salva la figici da eventuali sanzioni internazionali è come dire ok ceferin ci ha minacciato facciamo la classica buffonata all'italiana così sono contenti tutti sempre secondo la fede calcio sarebbe una norma programmatica e non precettiva cioè la chiamano programmatica sapete cosa significa manovra programmatica significa che poi continuano a fare che cazzo vogliono dunque che darebbe un'indicazione sulla linea da seguire non un obbligo ecco qui le cose all'italiana come per dire che il governo in materia di giurisprudenza sportiva dice noi vi diamo una linea però poi fate un po come cazzo vi pare tanto avete fatto sempre continuate a farlo nascondendosi dietro quella classica parola di indipendenza sportiva lo sport non può essere non può dipendere da un governo tutte ste minchiate perché queste poi sono le classiche cazzate che servono poi a mascherare e a coprire tutti tutti gli affari loschi che si fanno nello sport no allora ci vuole l'indipendenza dello sport perché solite cazzate l'unica cosa che è stata fatta e che è stata data sempre una linea per quanto riguarda il peso del ruolo della lega di serie a all'interno della federazione italiana gioco calcio si indica un ruolo più pesante a livello di rappresentanza nella fdc fgc stop invece per quanto riguarda per quanto riguarda la giustizia sportiva i classici ricorsi al tar non cambia nulla quello che era l'emendamento che doveva proteggere le società doveva controllare i bilanci doveva portare una sorta tra virgolette di giustizia anche a livello sportivo con determinati ricorsi con un aggiustamento della giustizia ordinaria con la giustizia sportiva e non il classico famo come a cazzo ci pare come al solito succede nello sport ecco tutto ciò è scomparso era quello l'emendamento buono da fare non questa buffonata classica che come al solito dice per noi è sbagliato ma se continuate a farlo va bene così ecco questo e questo è riassunto per noi ci sono delle cose che non vanno parola del governo ma se le continuate a fare non succede nulla ecco qua e allora da avanti col carrozzone avanti con le minchiate avanti con la protezione dei soliti noti vediamo avanti così questa situazione è confermata è riconfermata per quanto riguarda la situazione dello sponsor dei pignorati che sarà betson sonno sulla betson che è come sapete voi un sito di scommesse ma non eravamo rimasti che c'era un articoletto che vietava le sponsorizzazioni dei siti di gioco d'azzardo sulle maglie da calcio addirittura si scomoda pistocchi stamattina in uno dei suoi slanci diciamo nel neurone che ogni tanto funziona e anche addirittura il pistocchi che generalmente un antiguentino sfegatato pone delle questioni su su questa situazione dello sponsor dell'inter ma come non non era stato fatto un articolo apposito a riguardo ebbene no perché siccome noi siamo nel paese dei pagliacci e giustamente siamo ben rappresentati dai pignorati che sono i primi pagliacci d'italia secondo attenzione questa è bellissima per farvi capire il paese italia secondo l'agicom altro istituto che non serve a una beata minchia il via libera dello sponsor betson sulle mani dell'inter è stato dato perché sulle mani dell'inter c'è un sito di informazione nessuna violazione ecco allora io io vi inviterei ad andare su google scrivere betson betson che sarà lo sponsor dell'inter e mi dovete dire dove cazzo sta sto sito di informazione perché io ho provato sia con le immagini sia col sito ma non mi è uscita una sola informazione una sola notizia non mi è uscito nulla mi sono mai uscito un sito per fare scommesse un sito per fare slot machine per giocare soldi con con l'azzardo e tutte queste cose qua né più e né meno non vedo siti di notizie un sito di notizie può essere un tg com può essere un ansa per quelli sono siti di notizie ma non sicuramente betson che è palesemente un sito di scommesse perciò anche la g com enesima buffonata pensate che secondo la g com il sito betson è un sito di informazione ecco io non lo so rimango sempre più allibito abbiamo fatto una battaglia l'anno scorso nel nome del nel nome di corona che già questo mi fa capire il livello del paese altra poco roma veniva fatto presidente della repubblica e le scommesse giocatori adesso basta ora basta bisogna finirla fuori tutti gli sponsor delle scommesse dal calcio calcio pulito calcio non passa neanche un anno eccola qua fatta la legge trovato l'inganno siamo in italia un po come non so se vi ricordate la questione del razzismo intermittente la chiamano così per alcuni valeva tipo quando lukaku giocava nell'inter il razzismo era hanno hanno fiscato lukaku si fermava il calcio milioni di articoli i giocatori tutti e sostenere lukaku si fischiava qualcun altro con una maglia diversa oppure si chiamava a zingaro qualcun altro dal colore della pelle bianca ma che giocava con una maglia diversa bianconera lì non succedeva niente lì non c'era razzismo lì era tutto a posto ecco la stessa cosa né più né meno in italia si fanno sempre le battaglie contro i mulini a vento non c'è niente da fare è un paese che è nato male morirà male non c'è niente da fare fino a che non arriverà qualcuno che veramente gli gira il cazzo e lo mette e mette le cose in riga come si come si devono come si devono mettere in barba tutti questi deficienti che poi comandano il paese perché non se ne può più non se ne può più questo è diventato il paese dei cazzari si pensa alle minchiate e le cose serie sono sono frivole le cose serie sono frivole e cosa ne sono frivo perciò come potete vedere come al solito in italia fai la legge e trovi l'inganno punto come al solito in italia le questioni omofobia razzismo tutte queste cose qua a chi a chi si e chi no si chi no a per alcuni valgono per altri no è questo andiamo avanti così questo poi si ripercuote tutto anche nell'ambito sportivo anche l'ambito sportivo questo si ripercuote è normale perché poi c'è qualcuno di intelligenza che che qualche domandina se la fa ogni tanto dice ma come cazzo funziona hanno rotto le palle un anno per i siti scommesse adesso l'inter sito di scommesse sulla maglia ma sapete che non riesco a capire come funziona al di là poi adesso che siano stati pignorati guarda caso ci stanno sempre in mezzo loro oppure un'altra squadra per carità di dio è per carità di dio per farvi capire ora al massimo ha preso per il culo oppure con l'emendamento mulè abbiamo fatto abbiamo è passato cosa è passata la supercazzola è passata e andiamo avanti così andiamo avanti così perché io ve l'avevo anche detto figuriamoci se i protetti si fanno inculare dal governo infatti è arrivato subito ceferini infantino la cavalleria è arrivata subito il governo zitti e muti io lo ripeto per la prima volta prima di chiudere il video mulè e abodi alzate i tacchi andate via perché avete fatto una figura di merda di quelle colossali eh non siete primi non sarete gli ultimi io lo ripeto sempre il livello della politica italiano non è basso è di più siamo veramente ai minimi storici siamo ai minimi storici questi sono degni rappresentanti ma non è che se ci fosse stato un governo di centro-sinistra le cose sarebbero state meglio anzi forse peggio addirittura per farvi capire un po la cozzaglia e i giochi di potere che ci sono e da dove partono partono sempre dalla punta della piramide vabbè amici con questo è tutto oggi siamo abbiamo divagato anche un po sulla politica cosa che io generalmente di cui non parlo quasi mai perché sono anni che non vado a votare io le ho provate tutte in italia le ho provate tutte destra sinistra centro tutti i movimenti contro movimenti tutto ma mi sono reso conto che andare a votare davvero inutile tanto chi voti voti in primis fanno i cazzi loro ma seconda roba ci sono dei rappresentanti che ti cadono proprio le palle nei calzini perciò io personalmente non avranno mai più il mio voto con questo è tutto mi raccomando iscrivetevi al canale youtube like iscrivetevi al canale tiktok e mettete un bel cuoricino mi raccomando fino alla fine forza io ci vediamo domani mattina per un altro videone anzi vi ringrazio anche per la live di ieri sera che è stata molto molto seguita quasi 350 persone in contemporanea non è male e vi ringrazio perché poi ieri sera siamo anche un po sfogati e divertiti col calcio mercato vi ringrazio come sempre per il vostro sostegno fino alla fine forza juve a domani